Benvenuti a questa nuova puntata di Ingresso Libero dedicata al Covid, alla seconda ondata di contagi che sta interessando l'Europa, il mondo, l'Italia e dunque anche il nostro Molise, contagi in aumento costante che preoccupano. La situazione è in divenire anche per quanto riguarda le decisioni che vengono prese e che dovranno essere prese a livello nazionale e a livello locale. Il pensiero di tutti è quello che spaventa, cioè un nuovo lockdown, lockdown che è stato richiesto oggi dal governatore della Campania, De Luca, preoccupatissimo per l'aumento esponenziale dei contagi nella sua regione. Un lockdown che dicono tutti comunque metterebbe in ginocchio, sarebbe un colpo letale per il nostro paese, per l'Italia, per l'economia, per il tessuto sociale. Dunque il governo sta monitorando la situazione per decidere che cosa fare, come operare, quali ulteriori restrizioni mettere in campo. Il Premier Conte in prima persona sta valutando la situazione, sta vedendo cosa fare. Purtroppo, come abbiamo detto, i numeri sono in crescita costante. Ovunque vediamo adesso l'aggiornamento dei dati che riguardano proprio il Molise con l'ultimo bollettino, quello di questa sera, diffuso dall'ASREM, dall'azienda sanitaria regionale. Nel giorno in cui in Italia il numero dei contagi sfiora ai 20.000 casi, anche in Molise si registra una nuova pesante impennata di nuovi contagi. Intanto c'è da registrare il decesso di un paziente 61enne di Macchia Godena che si trovava ricoverato in terapia intensiva, la 27esima vittima dall'inizio dell'emergenza. Dunque il record di nuovi positivi, 66 sui 698 tamponi processati. Aumentano anche i ricoveri in ospedale, sei malattie infettive e due trasferite in terapia intensiva. Si tratta di una persona di Termoli e di una di Castelpetroso. In totale i pazienti ricoverati sono 18, ma ci sono anche guariti, sono 33 infatti le persone uscite fuori dalla malattia. Tornando ai nuovi casi, si registrano 9 a Campobasso, 7 a Isernia, 7 a Termoli, 6 a Castelpetroso, 4 a Venafra e Pettoranello, 3 a Casa Calenda, Guglionesi e Santa Croce di Magliano, 2 a Coglie al Volturno, Macchia di Isernia, 1 a Bonefro, Cantalupo, Carovilli, Casal Ciprano, Castro Pignano, Cerce Maggiore, Colletorto, Forli del Sagno, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Oratino, Pesche, Porto Cannone, San Martino in Pensilis, Toro e Vinchiaturo. Intanto anche nelle scuole si registrano casi di contagio. A Campobasso didattica a distanza liceo Galanti per la positività di una ragazza del primo anno, al liceo scientifico Romita positivo un ragazzo di seconda, al classico di via Scardocchia anche in questo caso è stata registrata la positività di uno studente alla Jovene per un positivo di terza media. Chiusa per un giorno per consentire operazioni di sanificazione la scuola media Colossa dove un dipendente è risultato positivo al tampone. Chiusa a Larino le due primarie Rosano per un insegnante positivo al Covid e la Novelli in via precauzionale. Lezioni sospese per un giorno anche agli istituti superiori Fermi e Mattei di Isernia e nella scuola di Carovilli. Questa è dunque la situazione in Molise relativa ai dati sui contagi da coronavirus. Nelle scorse trasmissioni abbiamo affrontato diversi temi come quello della ripresa didattica nelle scuole con non poche difficoltà e anche incognite. Abbiamo affrontato prima il tema della sanità e in verità un tema che presenta non potrebbe essere altrimenti continui aggiornamenti a seconda dell'evoluzione dei fatti legati a questa pandemia con la quale dobbiamo purtroppo ancora convivere in questa puntata attraverso dei contributi che sono stati realizzati attraverso interviste. Vogliamo dunque fare una panoramica generale sulla situazione raccogliendo quelle che sono le istanze del territorio delle categorie sulle misure che sono state adottate su quelle da adottare sulle conseguenze che misure e situazione comportano. C'è un tema molto dibattuto che è quello dei trasporti, la sicurezza sui mezzi pubblici. Ci sono regole da rispettare, ci sono delle disposizioni. Infatti i mezzi pubblici potrebbero essere un veicolo di contagio, una fonte di contagio qualora non venissero rispettate appunto queste regole. Sono molti gli studenti che ogni giorno si recano a scuola e da loro arrivano le denunce di sovraffollamento sui mezzi che li portano a scuola. Il consigliere comunale della Lega Campobasso Alberto Tramontano la scorsa settimana ha voluto denunciare la situazione al terminal bus del capologo relativo alle navette che trasportano i ragazzi nelle scuole cittadine. Avete visto appunto le immagini che lui stesso ha girato con il telefonino sabato scorso di buon mattino proprio al terminal di Campobasso e questo che si vede, quello che si vede è quello che lui stesso ha voluto far presente al sindaco Gravina. All'assessore, all'amministrazione di Campobasso ci sono assembramenti pericolosi. Ha detto che occorre prendere provvedimenti immediati, porterò la questione in consiglio comunale, ha annunciato il consiglio che è stato convocato per la prossima settimana. Intanto oggi gli studenti sono scesi in piazza a Campobasso a gruppi con mascherine piccoli, gruppi per evitare gli assembramenti e per far sentire la loro voce appunto sul tema della sicurezza all'interno delle scuole e anche e soprattutto sulla questione trasporti, sicurezza appunto sulle navette. Insomma sono stati molto critici, hanno lamentato carenze. Ma sentiamo che cosa ci hanno detto la manifestazione in piazza davanti al municipio a Campobasso. Da poco più di un mese siete rientrati a scuola in emergenza perché c'è la pandemia coronavirus, ma oggi perché siete in piazza? Quali sono i punti su cui voi vi battete? Ok, oggi rivendichiamo l'edilizia scolastica, quindi tutte le strutture, rivendichiamo i mezzi di trasporto pubblici che sono messi in condizioni pessime e rivendichiamo una didattica che non è ancora abbastanza efficiente e che non ci vede centrali nella scuola. Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, quali sono le vostre richieste precise e specifiche? Ci sono tagli dall'istruzione ormai da tanti anni e il rientro nelle scuole non è stato organizzato bene, ci sono comunque assembramenti all'interno delle scuole e all'interno delle aule non sempre si riescono a mantenere i distanziamenti, questo è dovuto appunto dalle strutture non sempre adeguate. A parte le tantissime necessità che gli studenti hanno, quindi si parla di finestre costantemente aperte, di termosifoni non sempre accesi e di tantissime problematiche che affliggono gli studenti. Per quanto riguarda i trasporti invece, quali sono le criticità che avete riscontrato? I trasporti sono sovraffollati e per gli studenti inizia ad essere molto complicato. si pigliano navette e pullman che vengono da paesi molto spesso e sono tanto sovraffollate. Non è una scelta prendere il mezzo pubblico, ma è un dovere e è una necessità e in questo momento non viene rispettata nessun tipo di norma. è un problema che in Molise abbiamo sempre avuto, quello dei trasporti, anche dal punto di vista dell'ambiente, però in una situazione così di emergenza vengono messe alla luce tutte le problematiche. Non c'è distanziamento sia nelle classi sia all'interno dei pullman, quindi per i trasporti che coprono una grandissima percentuale di studenti a Campobasso, come in tutta Italia. I provvedimenti che vengono presi spesso sembrano soltanto di facciata e a noi questo non va assolutamente bene. Vogliamo che si punti davvero l'attenzione sui giovani. Quando si parla di coronavirus e giovani spesso si parla soltanto di responsabilità e nessuno davvero punta l'attenzione sui nostri bisogni, però dimenticarsi dei ragazzi in questo momento significa dimenticarsi di tutte le loro famiglie, in quanto senza misure di sicurezza non solo mettiamo a rischio noi stessi, ma mettiamo a rischio tutte le nostre famiglie. Quindi secondo te sarebbe giusto fare didattica a distanza in questo momento oppure stare in classe, perché il ministro dice che bisogna stare in classe e ci sono le misure di distanziamento, però tu dici che effettivamente questo non c'è. Allora a questo punto bisogna tornare alla didattica a distanza, volete questo? No, noi preferiamo la didattica in presenza perché riesce ad arrivare a un maggior numero di studenti sicuramente, però questa didattica in presenza deve garantire delle misure di sicurezza vere. La possibilità che si torni a una didattica a distanza è molto alta, in quel caso noi vogliamo essere ascoltati come studenti, perché quando è stata attuata per la prima volta, sicuramente era una situazione complicata e di emergenza, però nessuno ha sentito il parere dei ragazzi. Volete essere ascoltati? Sì. Quindi l'appello alle istituzioni qual è? L'appello alle istituzioni è rappresentarci davvero, cioè non chiamarci all'interno del dibattito pubblico solo per descriverci in maniera negativa, ma darci la possibilità di esprimere un parere. E sul tema dei trasporti anche in Consiglio regionale il dibattito è aperto con la consigliera Fanelli che ha chiamato in causa il vertice regionale Pasquale Di Bello. Sull'argomento ha sentito proprio l'assessore a ramo Quintino Pallante. Sentiamo che cosa gli ha detto. Assessore Pallante si sta lavorando per il nuovo affidamento della rete dei trasporti molisani. Entro la fine dell'anno probabilmente ci saranno delle novità. Intanto la correzione della rotta. Proprio il caso di Dill non è semplice e non è immediato perché il Consiglio regionale ha imposto con la propria volontà, come giusto che sia, prima si era lavorato in una rotta diversa. Contiamo di arrivare il prima possibile ad un nuovo bando che ci metta finalmente le condizioni di andare sul mercato e di correggere quelle che sono condizioni ataviche purtroppo nel nostro sistema di trasporto che si sono trascinate per tanti anni e su cui dobbiamo agire con tempestività ma anche con fermezza. Un tema strettamente collegato a quello dei trasporti è quello delle infrastrutture. Come Governo regionale anche su questo tema c'è necessità di interventi. Beh sì, su questo si apre un discorso molto più ampio. Spero che i fondi che arriveranno su Recovery Fund ci consentano di colmare questo gap infrastrutturale che non è proprio solo della nostra regione in generale. Quello delle manutenzioni, quello delle opere di infrastruttura, quello di fare un piano dei trasporti che ci metta finalmente nelle condizioni di rendere la nostra regione agevole. Parliamo anche del trasporto ferroviario, quindi non solo quello su gomma perché scontiamo ancora dei ritardi per quel che riguarda i collegamenti soprattutto nei confronti della capitale. Con ferrovie italiane ci sono delle interlocuzioni in corso? Beh intanto devo sottolineare che il sistema dei trasporti è un sistema molto complesso e per alcuni aspetti oneroso. Riceviamo solo il 55% di risorse da parte del Governo, quindi dobbiamo trovare fondi propri e avere una rete infrastrutturale come dicevo prima anche su ferro che non è stata per tanti anni ammodernata è un grave handicap. Cioè nonostante il costo che noi subiamo appunto è di circa 25 milioni all'anno, dovremo fare un ragionamento molto più a medio termine con le ferrovie. Abbiamo iniziato alcune opere che devono essere completate, per questo serve il sostegno del Governo. È chiaro che la Regione da sola ha enormi difficoltà per colmare questo ritardo che si è accumulato in decine e decine di anni ovviamente. Diamo così uno sguardo al sistema dei trasporti però collegato a un tema particolare, Covid e scuola, ci sono state richieste da parte di genitori di interlocuzione con la Regione per quel che riguarda un efficientamento di questi servizi. Qual è il quadro in questo momento? Beh questo è un quadro particolarmente complesso perché interagiscono sia i comuni che la Regione. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale noi abbiamo rivisitato la nostra organizzazione per quanto possibile molto complessa rispetto a quello che accade in altre Regioni perché sostanzialmente in altre Regioni gran parte degli studenti viaggiano sul trasporto urbano. Noi per la nostra conformazione regionale abbiamo il problema completamente opposto, cioè gran parte degli studenti viaggiano sul sistema di trasporto pubblico regionale e quindi abbiamo queste difficoltà anche a duplicare le corse. Però fino ad oggi credo che il problema, con qualche eccezione, che pure staremo vedendo con tavolo particolarmente puntuale sulle difficoltà che i comuni ci hanno esposto, risolveremo e stiamo risolvendo quasi tutti i problemi. E anche qui, ripeto, la situazione non è per nulla facile perché esiste un problema economico, esiste un problema infrastrutturale, esiste un problema organizzativo che dovremo risolvere appunto con le nuove gare. Il Presidente Toma, in vista della stagione invernale e anche in considerazione di ridurre la congestione sul trasporto, ha proposto la didattica a distanza per le ultime classi degli istituti superiori. Lei si sente d'accordo? Assolutamente d'accordo, è molto semplice. Io non sono uno scienziato, però mi limito a rilevare che da quando sono aperte di nuovo il sistema scolastico il numero dei contagi sale ovunque, quindi io non ho la competenza per capire quanta di questa parte è legata al sistema scolastico, però a me sembra evidente che almeno le tre classi superiori potremmo gestirle diversamente. Uno dei settori che ha maggiormente risentito del lockdown e che fatica a riprendersi è quello del commercio che teme dunque nuove chiusure, nuovi stop che potrebbero essere deleteri per molte aziende e soprattutto le piccole aziende, ma non solo, il sostegno delle istituzioni è fondamentale per le attività e ne abbiamo parlato con i rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti. Partiamo proprio dalla Confcommercio con il direttore regionale Irene Tartaglia che è stata intervistata da Enzo Luongo. Irene Tartaglia qui dal vostro osservatorio, chiamiamolo privilegiato da Confcommercio, avete il polso della situazione anche alla luce delle nuove restrizioni, qual è lo stato d'animo di chi oggi ha un'attività commerciale? La situazione è preoccupante purtroppo ai nostri commercianti, i nostri ristoratori soprattutto, perché gli ultimi dpcm hanno riguardato essenzialmente le attività della ristorazione, dei congressi e cerimonie sono ulteriormente colpiti dopo il periodo del lockdown da questa situazione. Veniamo anche da un periodo in cui le cose sembravano essersi riprese soprattutto nella nostra regione per il boom turistico che c'è stato. Quindi questa battuta d'arresto che è stata immediata con disdette di prenotazioni di cerimonie e una paura già avvertita di continuare a frequentare i locali anche durante la sera, insomma li ha molto preoccupati e ci preoccupa soprattutto per il periodo a venire. Come si conciliano tutte le esigenze? Cioè garantire la sicurezza, il distanziamento sociale e consentire a queste attività di rimanere in vita? Il nostro invito è infatti quello di non fermare diciamo le nostre abitudini ma stare attenti, avere un senso di responsabilità da parte di ognuno di noi e continuare anche ovviamente nel rispetto delle regole insomma ma ricordiamo che tutte le nostre attività commerciali hanno adottato fin da maggio i protocolli di sicurezza e continuano a farlo. Quindi le attività, pensiamo alla ristorazione sono sicure e ovviamente individuando quelle misure insomma previste a livello nazionale ma anche grazie ad alcuni accorgimenti che stanno adottando i nostri ristoratori, faccio l'esempio molti hanno anticipato l'orario per poter cenare alle 7 per permettere di diluire durante l'arco della serata la possibilità a più persone di fruire della ristorazione. Tutte queste misure ci permetterebbero comunque di continuare a lavorare seppur in una maniera un pochino più diluita, più soft ma di non avere una battuta di arresto che prometterebbe tutto diciamo il tessuto economico della nostra regione perché diciamo per un'attività ce ne sono tante altre che sono dell'indotto penso all'agroalimentare oppure alle cerimonie per quanto riguarda anche il commercio della nostra regione fortemente e pesantemente colpito dal covid già dalla primavera quindi è fondamentale poter continuare a fare diciamo le attività che normalmente siamo abituati a svolgere e quindi anche all'intrattenimento ovviamente non pensiamo alla movida e alle assembramenti ma ad un usufruire della diciamo della ristorazione quindi dei nostri pubblici esercizi piuttosto che di altre tipologie di attività nel rispetto delle misure insomma che fondamentalmente poi non compromettono definitivamente la nostra libertà anche di divertimento ripetiamo che spesso è attribuito proprio all'assembramento a diciamo al ristorante al usufruire del ristorante o al bar l'aumento dei contagi e contagi in realtà non è così non è dimostrato anzi abbiamo visto a livello nazionale ci confermano ogni giorno che i contagi avvengono all'interno del delle abitazioni private perché perché le nostre attività adottano le misure sono sicuramente svolte nel rispetto del delle regole previste combattiamo con questa emergenza ormai da otto mesi e purtroppo i tempi che si annunciano sono non sono brevi sono ancora lunghi quindi bisogna convivere con l'emergenza l'abbiamo appena detto ci sono dei dati sull'impatto che il coronavirus ha avuto sull'economia molisana sappiamo che molte attività hanno anche non sono riuscite a sopravvivere i dati diciamo sono previsori noi abbiamo dei numeri al 31 agosto ma come dico la conta la faremo a fine anno purtroppo abbiamo un 8 per cento di attività che non hanno riaperto proprio dopo l'interruzione del lockdown primaverile e questo è un dato il dato che rileviamo al 31 agosto 2020 in realtà non è un dato pessimo per quanto riguarda le imprese molisane perché è un dato che conferma i dati del 2019 quello che invece rileviamo è che non c'è stata una crescita che ovviamente non ci sarà in questo ultimo trimestre e questo invece ci deve far riflettere per fare una buona programmazione soprattutto a livello regionale per quella che sarà la nuova programmazione dei fondi europei per permettere subito dopo diciamo la primavera sicuramente la prima metà del 2021 perché giustamente noi dobbiamo imparare a convivere con queste situazioni che non si fermerà a fine 2020 ma sicuramente fino a quando non troviamo il vaccino andremo avanti in questo modo che permetterà quindi di poter poi effettuare degli investimenti per la nostra economia il dato che rilevavamo agli inizi del 2020 a gennaio era di una piccola crescita insomma in ripresa anche a livello regionale e questo lo dobbiamo andare a recuperare quindi il nostro invito è ad una programmazione che possa accompagnare con indennizi immediati e di ristoro gli imprenditori più colpiti in questo fine 2020 e mi riferisco al settore appunto della convegnistica cerimonie ristorazione o quelli che saranno ulteriormente penalizzati laddove speriamo di no ma insomma lo fossero e dall'altro di fare programmazione di investimenti per il 2000 a partire dal primavera del 2021 un'ultima cosa siamo alla vigilia di una ricorrenza molto sentita che la commemorazione dei defunti c'è preoccupazione per la possibilità di assembramenti dei cimiteri è stata lanciata una proposta sì federfiori conf commercio lanciato a livello nazionale l'abbiamo ripresa anche noi a livello locale facendo un invito a tutti i comuni molisani al prefetto di campo basso e al prefetto di sernia affinché venga istituita una settimana della commemorazione che possa partire il 26 di ottobre chiudersi il 3 novembre l'invito è a permettere ai comuni a per noi comuni di aprire i propri cimiteri affinché le persone possano non diciamo concentrarsi nelle giornate della commemorazione che normalmente sono il primo il 2 di novembre ma poter diluire quindi la folla insomma gli assembramenti in questa settimana questo darebbe anche un'ulteriore diciamo spinta anche alle attività economiche che in questo periodo lavorano per questo tipo di commemorazione quindi speriamo che i nostri comuni molisani raccolgano l'invito di conf commercio molise che abbiamo fatto proprio con pec all'inizio della settimana quest'estate in molise sono arrivati molti turisti gente arrivata da tutta italia ma anche dall'estero per visitare per scoprire questa regione e comunque è stata una boccata d'ossigeno per le attività commerciali per le attività di ristorazione per quelle alberghiere in molti hanno visitato la nostra regione anche personaggi famosi che hanno sponsorizzato questa terra anche a livello anche sui social e dunque l'hanno fatta conoscere ci sono state tante iniziative come quella ad esempio di san giovanni in galdo dove sono state messe a disposizione delle case gratuitamente alle persone e sono arrivati in in tanti dunque una terra da apprezzare una terra da scoprire che però ancora tanto deve fare a livello di infrastrutture di accoglienza di viabilità i mesi estivi questa quest'arrivo insomma di turisti nei mesi estivi è stato come dire ristoratore dopo il lockdown è servito a qualcosa sentiamo cosa ci ha detto maria antonietta rienzo che è coordinatrice di assoturismo molise di confesercenti che ha fatto anche un appello alle istituzioni sì in molise ci sono state del diciamo delle riprese per quanto riguarda i ristoranti per quanto riguarda le attività operanti quinti nel 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 settore del turismo però questo non basta e soprattutto in questo momento c'è stata una ripresa diciamo tra agosto e settembre ma questo in effetti non è bastato per tamponare quelle che erano state le perdite dei mesi precedenti dobbiamo tener presente che le tutte le attività del commercio e del turismo sono ancora in agonia c'era un limite di ripresa in agonia perché molti aspettavano comunque aspettano tuttora dei finanziamenti degli aiuti della regione quindi quindi l'erogazione del finanziamento per tamponare quelle spese e quelle perdite che c'erano state comunque nel mese precedenti quindi sono in agonia adesso con le nuove restrizioni che ci sono perché le restrizioni limitano comunque le proprie attività di apertura in orari serali sembra che queste limitazioni degli assembramenti siano diciamo in qualche modo adebitabili soltanto alle attività del commercio e invece l'assembramento in qualche modo bisogna ricordare che l'assembramento è soltanto una questione di rispetto di regole è una questione di cultura e non riguarda soltanto il settore della ristorazione il settore del turismo il settore quindi del commercio e in questo caso vorrei dire che deve essere sia la regione e anche lo stato a in qualche modo a limitare questi assembramenti attraverso dei controlli attraverso quindi doveva essere fatto sostanzialmente anche prima per evitare quello che c'è adesso visto che c'era una previsione di una situazione autunnale quindi di una ripresa del coronavirus e che tuttora noi in effetti stiamo verificando i dati non certo positivi neanche per il molise e quindi devono in effetti dovrebbero in effetti incalzare quelli che sono i controlli adesso e non le limitazioni che stanno invece danneggiando i commercianti in termini numerici lei ha parlato di perdite per il settore è possibile quantificarle queste queste perdite che ci sono state per il per il settore durante il lockdown allora non abbiamo in effetti dei dati numerici no io posso dire che essendo responsabile dell'ufficio dei bandi e finanziamenti io posso dire che ci sono invece tante attività che hanno concorso ai bandi regionali che erano in grossa difficoltà ed è un numero abbastanza elevato attività di che settore di che tipo allora sono attività commercianti di tutti i settori che sono quelli della ristorazione ma non solo ristorazione teniamo presente anche le agenzie turistiche allora le agenzie le agenzie di viaggio praticamente molte a campo basso hanno chiuso sono agenzie che hanno avuto sono proprio quelle che hanno avuto un calo di fatturato elevato non hanno più incoming non hanno outgoing cioè non fanno più biglietti non fanno più non la gente non viaggia giustamente il loro lavoro è ovvio che il loro lavoro è limitato e purtroppo neanche il supporto l'aiuto economico non non è stato neanche riconosciuto e questo non è un problema di poco e bisogna anche sottolineare un'altra cosa che nel molise e pur vero che ci sono stati i turisti c'è stato un bel diciamo un bel incoming dal nord dalle regioni limitrofe però questi sono comunque si sono appoggiati non certo ad agenzie non si sono di certo appoggiati a diciamo non si sono appoggiati neanche a quelle che sono le guide utilizzato internet hanno utilizzato internet ma anche privati sono anche dei privati che essere sincera si sono anche un pochino inventato il nuovo lavoro si sono inventati il lavoro di guide turistiche si sono inventati il diciamo il lavoro anche di operatori di organizzatori di viaggio e questi danneggiando anche il settore stesso e un nuovo lockdown cosa significherebbe a questo punto a questo punto già erano in agonia e la morte delle attività le attività in effetti arrischiano veramente di chiudere già adesso abbiamo visto agenzie che chiudono attività commerciali devo essere sincera ci sono delle attività commerciali che hanno detto che se non ottengono l'erogazione del finanziamento saranno costretti l'aiuto per pagare gli affitti l'aiuto per pagare comunque i contributi le utenze rischiano veramente di chiudere perché questi finanziamenti ripeto ancora l'erogazione ancora non arriva quindi adesso con le limitazioni che ci sono quindi che cosa vuol dire che se prima in un'attività poteva un'attività poteva contenere 30 persone ne dovranno contenere 15 è ovvio che con un arretrato economico di debito insomma certo la salute comunque viene prima di tutto e delle misure devono essere prese ma voi adesso che cosa chiedete anche alla luce di questo aumento dei contagi e comunque della necessità di dover contenere questi contagi allora noi chiediamo effettivamente maggiori controlli cioè non limitazioni le limitazioni sinceramente alle attività commerciali perché noi vediamo che gli assembramenti perché poi quello è l'assembramento che crea comunque il contagio non c'è soltanto nell'attività commerciale c'è ovunque ci devono essere delle controlli e tra parentesi delle anche quelle che sono delle multe delle sanzioni delle sanzioni certo ci devono essere delle sanzioni si parte da quello poi devo ricordare che questo comunque anche un momento fertile per l'attività illecite quindi vediamo comunque l'abusivismo che cresce vediamo soprattutto quelle che sono delle le attività di illeciti di di persone che in questo momento sono in difficoltà e vanno a finire comunque anche nelle mani degli usurai infatti voi avete uno sportello avete creato insomma una una struttura diciamo così ss impresa rete per ss impresa rete per la legalità contro usura e racca si abbiamo creato proprio questa questa associazione per supportare effettivamente le autorità e soprattutto per dare un aiuto ai commercianti che si trovano in queste difficoltà quindi dare un aiuto supportandoli e quindi indirizzandoli e in effetti a quelli che sono le 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 strutture che gli aiuto ovviamente ecco questa ovviamente è una un'associazione di confesercenti e di cui fanno parte diverse realtà diversi soggetti sì fanno parte quindi sia i commercianti ovviamente ma ci sono comunque persone che hanno operato in passato nel nella polizia nella finanza quindi che già in qualche modo sanno come affrontare questa problematica che purtroppo ha preso proprio piede in questo periodo come dicevamo una situazione molto particolare quella che stiamo vivendo con il riacuirsi di questa pandemia con i casi in aumento era anche prevedibile sotto certi aspetti le decisioni vengono prese ad oras i governatori incontrano costantemente i rappresentanti del governo per prendere delle decisioni e praticamente ci sono alcuni che hanno già preso decisioni più o meno drastiche la campagna la lombardia il piemonte il lazio ad esempio il veneto dove si stanno registrando degli aumenti costanti e comunque aumenti che preoccupano di casi anche in molise come in tutte le regioni purtroppo l'aumento è sostanzioso ormai da diversi giorni abbiamo sentito prima gli studenti rappresentanti del mondo del commercio la questione della scuola dei trasporti dell'economia della sanità sono al centro dell'agenda dei governatori anche del governatore del molise sentiamo allora cosa ha detto cosa anche risposto il governatore toma intervistato da pasquale di bello presidente toma facciamo un quadro generale sull'emergenza covid soprattutto sul quadro nazionale perché l'impressione che si ha è che i governatori vadano un po ciascuno per la propria strada questo genera apprezzione genera confusione però c'è un raccordo costante che lei ha col governo nazionale cerchiamo di mettere ordine innanzitutto com'è la situazione allora lei che è un osservatore attento ha centrato il nodo cruciale di queste ore il si sta diffondendo la paura del covid perché noi abbiamo sofferto molto nel lockdown abbiamo visto immagini terribili al nord abbiamo subito anche noi delle delle vittime e insomma ogni ogni vita che si spezza è una parte di noi stessi che si perde di tutto il popolo che si perde e quindi la paura del dei nuovi contagi sta diventando poco alla volta panico invece dobbiamo essere molto razionali presenti a noi stessi che un governatore come lo sono io come lo sono gli altri governatori ma questo è sensibile anche al governo ai ministri e al premier noi dobbiamo essere invece molto freddi nelle decisioni calcolatori guardare i dati e coordinarci io sono in contatto con tutti i governatori italiani costante contatto sono in contatto con il governo in particolare attraverso il ministro delle autonomie locali francesco boccia devo dire che il ministro speranza è in contatto con noi partecipa a tutte le riunioni ieri ne abbiamo fatte diverse e questo ci aiuta a decidere certo ci sono alcuni governatori che vorrebbero misure più restrittive ma ogni governatore deve guardare alla realtà della propria regione la realtà molisana non è comparabile alla realtà lombarda o alla realtà più vicino a noi campana hanno queste due regioni compreso apposta come riferimento nord e sud hanno delle situazioni pandemiche molto simili ma completamente diverse a quella alla realtà molisana per cui io dovrò agire confortato dall'autorità sanitaria locale confortata dall'unità di crisi in relazione alle nostre esigenze di esigenze di tracciamento e di controllo e di qualche ora fa la notizia che il governo come ci aveva pronunziato ieri in una conferenza stato regione informale il governo oggi ha chiesto la mia adesione l'adesione di tutti i presidenti ho data per il molise ha bandito domani penso uscire al bando un concorso per 500 unità in tutta italia amministrativa e 1500 unità sanitarie di vario tipo al molise saranno assegnate tre unità amministrative e saranno assegnate 13 unità di sanitarie queste unità ci aiuteranno a cosiddetto contact tracing cioè all individuare i contatti tracciare i contatti e chiamare controllare monitorare tutti coloro i quali saranno posti in quarantena ma c'è di più oggi ho avuto un dispaccio come si vuole dire in tempi di guerra voglio usare questo termine guerresco un dispaccio della protezione civile nazionale che ci annunciava che al molise è stato attribuito un team di medici militari sanitari militari operatori militari se non la memoria non mi inganna si tratta di un ufficiale medico più due barra tre infermieri più un paio di militari di supporto che saranno inviati in molise a breve per effettuare tamponi che indirizzeranno faranno elaborare dai nostri laboratori sotto il profilo dell'organizzazione per un potenziamento proprio della rete di screening quindi delle operazioni che portano poi ai tamponi ci sono delle novità da parte del governo si parla della possibilità di effettuarli anche in farmacia c'è la possibilità che li facciano i privati lei ha in mente il potenziamento di una medicina più diffusa sul territorio certo dobbiamo intensificare il rapporto con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ma questa è la strada che stiamo seguendo devo dire che diversi soggetti sono stati individuati positivi proprio dai medici di medicina generale questo significa che sono diventati molto 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 più attenti e consapevoli che è importante non sottovalutare mai i sintomi che i pazienti ci presentano ma questo i medici lo sanno benissimo sui farmacisti dobbiamo io sono un po' indeciso sulla somministrazione in farmacia dei tamponi no, non penso che li faremo fare ai farmacisti penso invece agli antigenici, i test rapid antigenici quelli si potrebbero fare in farmacia chiaramente la farmacia deve avere locali idonei ci deve essere almeno un infermiere e ci deve essere un accordo con i farmacisti che penso che assieme ai commissari e assieme all'ASREM dovremo studiare stanno arrivando, perché c'è stato preannunciato dal commissario Arcuri Domenico Arcuri, stanno arrivando un buon numero di antigenici, tamponi, non tamponi sono dei test, chiamiamoli così, non vorrei usare impropriamente dei termini medici che in realtà non appartengono alla mia provenienza culturale però in questo periodo abbiamo dovuto imparare dei test antigenici che in massimo 15 minuti danno il risultato e il risultato, se è in certi parametri, tra l'altro è considerato molto vicino ad una ragionevole certezza Ecco, purtroppo la curva dei contagi è in costante crescita in crescita in Italia e in crescita purtroppo anche in Molise per quello che riguarda l'organizzazione della rete ospedaliera Siamo pronti ad un eventuale incremento, recrudescenza del virus per quel che riguarda i posti in terapia intensiva e malattie infettive? Guardi, in relazione allo sviluppo della pandemia che è stato studiato dai nostri epidemiologici in relazione a questo ipotetico andamento lei sa che l'andamento è tale se tu non intervieni prima perché se intervieni bene la previsione può cambiare noi dovremmo essere abbastanza tranquilli sul fatto che abbiamo posti letto di malattie infettive in poco tempo attrezzabili già abbiamo attrezzato il quinto piano dell'ospedale Cardarelli con dei percorsi separati abbiamo le malattie terapie intensive che hanno percorsi separati da 30 possiamo arrivare con facilità a 45 altre terapie intensive stanno per essere create perché l'ASREM è ente soggetto attuatore del commissario Arcuri quindi nel cronoprogramma di qui a 4 mesi dovrebbero raddoppiare le terapie intensive ma comunque non do dei numeri in questo momento ma sono numeri che sono proporzionali alle previsioni che sono state fatte comunque noi il fabbisogno regionale eventuale lo dovremmo riuscire a soddisfare è di questi minuti proprio una nota da parte delle opposizioni da parte del segretario regionale del PD che rilancia ancora su questa questione della divisione degli ospedali Cardarelli solo per quel che riguarda la trattazione del covid invece gli altri ospedali Termoli e Isernia per le altre patologie lei che cosa pensa? io penso quello che il ministero ha approvato penso quello che sta in realizzazione che è il progetto che la struttura commissariale ha inviato al ministro della sanità che è stato approvato che prevede il padiglione covid a Campobasso prevede il rafforzamento del pronto soccorso il rafforzamento delle terapie intensive a Campobasso e delle sub intensive sempre a Campobasso il rafforzamento delle aree grigie e dei pronto soccorsi di Sernia e di Termoli è ormai partita l'operazione chiamiamola così parlare di altre cose in questo momento mentre siamo in trincea è del tutto fuori luogo restiamo in trincea parliamo però di un altro tipo di danno che c'è stato a seguito della pandemia il danno economico sono moltissimi gli operatori purtroppo preoccupati fermi non passa giorno che non si sentano misure sempre più restrittive per delimitare le occasioni di contatto e quindi di contagio ci sono tutta una serie di bandi regionali aperti rispetto ai quali sono in cammino delle forme di ristoro per persone che si trovano in questa situazione vogliamo fare un po' un quadro generale cercando di capire a che punto sono che risposta c'è stata i tempi della regione da qualche parte ci sono lamentele perché i tempi sembra siano lunghi beh guardi le dico subito che abbiamo messo nel giro di un mese se ricorda bene tra maggio e giugno nel giro di un mese abbiamo messo sul territorio circa 30 milioni di euro e non è poco per le imprese in un mese altri fondi li stiamo per per arrivare a 45 milioni di euro li stiamo per rimettere in questo momento per le imprese ma non solo per le imprese e le voglio dire solo le voglio dare qualche dato io ho appena finito una ricognizione la ricognizione che solitamente faccio ogni 15-20 giorni noi se ricorda c'era un prestito di microcredito gestito dalla FIMMOLISE con fondi regionali abbiamo erogato 5 milioni 237 mila euro cioè pagato erogato significa che i soldi sono arrivati sui conti correnti dei richiedenti i richiedenti erano 1.605 ci sono state delle esclusioni dovute ad irregolarità nel DURC o altre problematiche quindi abbiamo soddisfatto con quel microcredito ad oggi 1.050 imprese il valore era di 8 milioni di euro c'è un residuo che reimpiegheremo in un'altra misura o nella reiterazione di questa misura ma le do qualche altro numero avevamo messo in campo 10 milioni di euro per coloro i quali avevano un volume di affari inferiore a 200 mila euro che avevano avuto le attività chiuse la cosetta sospensione da covid o con grave callo del fatturato oltre il 30% abbiamo avuto le dico il numero perché è importante 6.263 domande presentate e chiaramente questo significa che indipendentemente dai problemi che lei ha dato oggettivamente le domande sono arrivate ne abbiamo istruite 1974 c'erano quelle finanziabili 1974 perché poi chiaramente la dotazione è finita e le concessioni effettuate quindi siamo nella fase della individuazione della erogabilità 1839 l'importo delle concessioni è 9 milioni 2,18 ci sono 2 milioni di euro che attendiamo le altre concessioni ad oggi abbiamo liquidato un numero di pratiche che io personalmente ritengo ancora basso 451 pratiche per un totale di importo erogato di 2 milioni 188 erogato significa che sono andate sui conti correnti delle imprese questo che significa significa che abbiamo ancora qualche settimana da lavorare però lei pensi che noi abbiamo in regione lo smart working che ci ha rallentato un pochettino il lavoro che ci sono 3 unità che lavorano con una media di 400 pratiche a settimana perché sono pratiche abbastanza veloci ma comunque devono essere istruite quindi cercheremo di accelerare i tempi poi abbiamo per gli over 200 mila euro di volume d'affari 20 milioni di euro a fronte di 1162 domande presentate 619 ammesse 524 che hanno avuto la concessione l'atto di concessione di cui 496 domande già sottoscritte dal beneficiario adesso l'ha sottoscritto abbiamo un importo delle concessioni di poco più di anzi quasi 15 milioni di euro quindi c'è un residuo che poi può essere reimpiegato o riutilizzato in un'altra misura abbiamo ancora 20 richieste di anticipazioni questa misura le ricordo che non era a forfè ma era sul rendicontato le imprese hanno tempo per spendere una volta che hanno spese chiedono alla regione il rimborso di quelle spese effettuate quindi hanno ancora parecchio tempo per spendere noi aspettiamo che ci interpellino ma poi abbiamo i bandi in corso sullo smart working 461 mila euro sono state fatte tutte le concessioni 8 richieste di anticipazione man mano che ci chiedono i rimborsi paghiamo acquisto prodotti di disinfezione un altro milione e mezzo la teleassistenza 256 mila euro la didattica digitale 610 mila euro totale 32 milioni 827 un po' di ritardo diciamolo onestamente secondo il mio punto di vista c'è sugli under 200 ma è fisiologico perché abbiamo tre persone che lavorano a tempo pieno su queste pratiche cercheremo nei prossimi giorni di rafforzare una battuta sul mondo della scuola perché anche lì lei ha avanzato insieme a tutta la conferenza del resto dei presidenti una ipotesi quella della didattica a distanza per il triennio conclusivo delle scuole superiori e a questo colleghiamo anche la vicenda trasporti perché è chiaro che la congestione nei trasporti può essere causa di contagio anche su questo fronte si sta lavorando allora guardi il pendolarismo scolare o scolastico è molto diffuso nelle scuole medie e superiori perché le scuole medie e superiori quindi i licei ragioneria istituti professionali istituti industriali magistrale sono collocati questi istituti per poli abbastanza ampi a volte addirittura per penso all'interland termolese che gravita su termoli penso all'interland campo bassano che è abbastanza baricentrico penso a boiano insomma sono sono spostamenti quelle delle scuole superiori abbastanza importanti se noi alleggeriamo per qualche mese anche un paio di mesi bastano le ricordo che a campo basso fa freddo nei mesi invernali per cui a volte quando nevica dobbiamo chiuderle indipendentemente dal covid le scuole se noi alleggeriamo tenendo a casa e facendogli fare didattica digitale con gli studenti del triennio delle scuole medie e superiori che sono già scolarizzati e sono capaci di gestirsi da solo alleggeriamo i trasporti e quindi avremo meno occasioni di contagio sul piano delle misure di contenimento in conclusione è chiaro che una cosa che abbiamo imparato è la diffusione del virus a macchia di leopardo non c'è una diffusione generalizzata ma ci sono come dire dei nuclei dove è più forte il contagio faccio un esempio per tutti in questo momento Isernia rispetto a queste prospettive lei ha in considerazione anche delle zone rosse e dei lockdown locali guarda siamo in una fase nella quale secondo me le zone rosse almeno in questo momento non servono abbiamo una diffusione abbastanza diciamo ampia in tutta l'area del territorio molisano ma questo vale per tutte le regioni non abbiamo accentramenti in comuni particolari come nella prima fase le ricordo Montenero le ricordo Termoli le ricordo Cerce Maggiore le ricordo Venafro le ricordo Pozzilli dove per alcune di queste aree ho dovuto adottare la chiusura a zona rossa oggi è il Molise che ha un contagio abbastanza diffuso che noi cerchiamo di curare e controllare a casa il segreto è questo medicina territoriale tenere a casa fin quando è possibile chiaramente i contagiati aspettare i dieci giorni perché l'isolamento fiduciario dura dieci giorni alla fine dei quali bisogna fare un tampone che deve risultare negativo ma in dieci giorni attualmente abbiamo capito che chi guarisce ce la fa guarire in dieci giorni poi ci sono dei casi particolari che vanno oltre quindi dobbiamo curare le persone a casa tenerle sotto controllo a casa e i molisani debbono imparare a non essere a non spazientirsi devono stare a casa e anche nell'ambito familiare devono isolarsi dai familiari nel senso che devono evitare i comportamenti non virtuosi quelli che noi evitiamo con gli esterni fuori di casa e quindi tenere la mascherina se si è positivi in maniera particolare o se si hanno dei sospetti lavarsi spesso le mani e avere il distanziamento anche dentro casa fuori queste regole sono obbligatorie lo sappiamo in qualsiasi momento della giornata a meno che tu non sei da solo in un campo da dieci ettari e non c'è nessuno attorno allora poi puoi anche togliere la mascherina o non siamo come lei in questo momento a una distanza tra l'altro abbastanza maggiore di un metro e quindi possiamo parlare in tranquillità in una stanza molto ampia che non è affollata e dove c'è il ricambio di aria queste sono dunque le parole del governatore Toma che monitora la situazione ora dopo ora nulla escluso sul fronte delle decisioni in base ovviamente a tanti fattori c'è la questione sanità come dicevamo che è una questione più che mai in evoluzione alla luce dei contagi gli operatori del comparto tutti da ormai otto mesi sono in prima linea e stanno lavorando incessantemente si stanno processando sempre più tamponi anche se sul tema si registrano delle polemiche anche delle critiche sono state disposte le misure di sicurezza negli ambienti sanitari in prima linea ci sono farmacisti medici di medicina generale ma anche i pediatri allora vediamo un po' come si sono organizzate alcune categorie partiamo proprio dai farmacisti abbiamo ascoltato il presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Campobasso Michele Rinaldi che ci ha parlato insomma dell'organizzazione nelle farmacie ma anche di altri aspetti come ad esempio la questione dei vaccini anti-influenzali lui ha detto che mancano all'interno delle farmacie sentiamo cosa ci ha detto Michele Rinaldi presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Campobasso le farmacie in prima linea durante la pandemia da coronavirus anche in questa seconda ondata come siete organizzati come farmacisti le farmacie sono organizzate né più né meno come quello che è successo durante il periodo di marzo aprile e i mesi successivi siamo pronti stiamo utilizzando tutti i metodi le tecnologie che abbiamo a disposizione per rispondere alle richieste più disparate in questo momento che ci stanno arrivando dai cittadini continueremo a collaborare con le istituzioni con i medici di medicina generale con i pediatri di libera scelta faremo in modo in pratica da lenire da migliorare sempre più la qualità che il servizio in farmacia offre da sempre e che ci viene da sempre riconosciuto come di ottimo livello ecco ci sono delle regole che bisogna rispettare quando si entra in farmacia e ci sono anche dei servizi che voi fornite per evitare gli assembramenti sì questo sicuramente bisogna riprenderlo eventualmente riconsiderarlo alla luce di quello che sta avvenendo l'accesso in farmacia avviene in misura contingentata perché comunque all'interno della farmacia arriva di tutto i rischi sono molto molto elevati ragione per cui tutti i procedimenti all'interno della farmacia devono essere come dire catalogati e costruiti per bene in maniera tale da evitare che all'interno della farmacia ci sia rischio di contagio e la farmacia diventi al tempo stesso non solo un rischio di contagio ma anche trasmistore praticamente di contagio ecco voi avete fatto una richiesta già in periodo di pandemia a marzo cioè quella di poter avere i tamponi poter essere insomma poter fare dei tamponi per garantire maggiore sicurezza all'utenza fare su voi stessi come farmacisti i tamponi sì questo è un momento in cui rinnovo la richiesta direttamente mi rivolgo direttamente al direttore generale del laser e al laser di campo basso credo che sia opportuno in pratica all'interno che tutti i farmacisti che lavorano all'interno del mondo della farmacia venisse effettuato per questo venisse effettuato un un tampone almeno per escludere rischi proprio di trasferimento ricordo bene il nel momento di chiusura del lockdown quando ci fu quel grosso problema all'interno della città di campo basso con forza chiedemmo questo oggi ripeto questa richiesta e mi auguro che qualcuno possa ascoltarmi quali sono le principali richieste che vi vengono fatte come farmacisti in questo periodo di pandemia in questo momento la richiesta più alta che stiamo avendo oltre a quello delle mascherine in tutte le sue tipologie sono soprattutto richieste di vaccini anti-influenzali abbiamo un handicap purtroppo devo essere abbastanza incisivo e chiaro su questo all'interno in questo momento all'interno delle farmacie molisane non ci sono vaccini per qualsiasi tipo di soggetto che desidera vaccinarsi i vaccini abbiamo aiutato il sistema dei medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta nel consegnare quanto è stato acquistato direttamente dalla regione ma in questo momento all'interno delle farmacie vaccini anti-influenzali non esistono non ci sono né possiamo in questo momento esaudire quelle che sono le richieste che a mio avviso nell'ultimo periodo si sono moltiplicate forse per 100 volte o 150 non c'è disponibilità dei normali fornitori e in questo momento siamo in attesa che eventualmente la regione morise ci rifornisca di vaccino ovviamente questa è una richiesta a brevissimo termine sì è una richiesta a brevissimo termine perché purtroppo i tempi di vaccinazione sono contingentati anche in previsione del fatto che c'è il rischio praticamente di sovrapposizione di infezione è pur vero che storicamente i picchi di vaccino qui nell'area molisana più o meno arriva tra il mese tra la fine del mese di gennaio inizi di febbraio però è chiaro in previsione della problematica grossa del SARS-CoV-2 è chiaro vaccinare prima un po' tutti e soprattutto le persone attive cioè quelle che in questo momento non vengono coperte dal servizio sanitario nazionale credo che sia importante e un po' tutti secondo me occorre dare una risposta concreta a questo problema per quanto riguarda invece le mascherine siete fornite? sì le mascherine non ci sono problemi ormai esistono livelli di qualsiasi tipo di mascherina dai mascherine quelle maggiormente filtranti alle mascherine chirurgiche in questo momento problema non c'è la risposta è stata data concreta da parte del sistema Italia quindi parlo del governo di tutto oggi abbiamo disponibilità illimitata di mascherine questo è un elemento positivo in ultima battuta parliamo del vaccino contro il covid lei da farmacista che cosa ci può dire cioè quando arriverà questo vaccino se arriverà e che tipo di vaccino sarà allora i dati che riusciamo a rilevare in realtà esistono 75 esperimenti a livello mondiale di produzione di vaccino attualmente quelli che sono arrivati quasi in dirittura d'arrivo e quindi sono in cosiddetta a fase 3 sono 9 esistono 9 aziende a livello mondiale che stanno sperimentando questo vaccino in fase 3 sembra che l'idea è quella di arruolare all'incirca 350.000 soggetti sani su cui sperimentare il vaccino in Italia dopo una piccolissima battuta d'arrestro il vaccino che in questo momento è in realizzazione tra un'azienda vicino a Pomezia e l'Oxford University in pratica gestito direttamente da un'azienda una multinazionale importante di cui non faccio nome il vaccino è a un buon livello sempre che le prime dosi forse le prime dosi dovrebbero arrivare per gli inizi del mese di gennaio comunque non voglio aumentare diciamo questa facilità di disponibilità di vaccino sicuro è per la metà di aprile metà aprile quindi in primavera i vaccini incominceranno a essere disponibili su tutto il territorio nazionale come ha detto la capua la virologa dovrebbe insomma essere a regime l'anno prossimo ottobre beh a regime completo perché comunque deve considerare che qui di richieste di milioni di vaccino ce ne sono sono tante le aziende sono quelle che sono i vaccini devono essere anche prodotti devono essere prodotti con tutti i criteri con i criteri di sicurezza e i criteri praticamente di municidità che non devono creare problemi alle persone ragion per cui per quella data lì che mi ha appena che mi ha appena detto molto probabilmente ci sarà una quantità giusta di vaccini ma è natale da immunizzare tantissime persone dobbiamo convivere insomma con questo virus le raccomandazioni sono sempre le stesse le raccomandazioni sono sempre le stesse mi raccomando il messaggio è sempre lo stesso forte e chiaro distanziamento utilizzo di mascherine lavarsi in continuazione le mani eventualmente con gel quando si è fuori mantenere il massimo della prudenza in queste cose come dicevamo anche i medici di base hanno adottato e stanno adottando precauzioni e regole stringenti e sentiamo che cosa ci ha detto a tal proposito un medico di medicina generale Felice Di Donato che è anche componente del comitato tecnico scientifico regionale lui anche si è soffermato sui vaccini anti-influenzali però gli abbiamo chiesto anche qualcosa sul vaccino contro il covid abbiamo chiesto anche lui come lo abbiamo chiesto lo avete sentito al presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Campobasso sentiamo Felice Di Donato Felice Di Donato medico di medicina generale ma anche componente del comitato tecnico scientifico della regione molise ecco come medici di medicina di base come vi state comportando in questa situazione questa emergenza pandemica che comunque vede un aumento dei casi siamo in quella che è definita la seconda ondata beh il comportamento deve essere è un comportamento di grande cautela che abbiamo ci è stato assicurato da parte della Asrem che ci sarà questo approvvigionamento dei vaccini in due fasi separate in questa prima fase c'è stato dato soprattutto i vaccini di pazienti che hanno gli over 65 ma anche quelli dai 60 anni in poi che hanno delle patologie abbastate stiamo parlando di vaccini anti-influenzali parlando di vaccini anti-influenzali perché dobbiamo evitare assolutamente e qui da questo può partire anche un'esortazione a tutti i nostri concittadini di fare la vaccinazione anti-influenzale dobbiamo evitare che tra qualche settimana ci potrebbe essere un picco e del covid e del virus pandemico e anche quello dell'influenzale la coinfezione di questi due virus potrebbe portare più di qualche problema non solo dal punto di vista dell'assistenza dei pazienti stessi dei soggetti fragili ma soprattutto per evitare che ci sia una sorta di collasso dell'assistenza sanitaria sul territorio Lei diceva che stanno arrivando dei vaccini cioè ci sono state delle rassicurazioni da parte di altre regioni Allora guardi in unità di crisi e noi ci riuniamo con un'alta frequenza ci è stato assicurato che anche da altre regioni ci sarà un approvvigionamento di vaccini quindi abbiamo avuto un primo stock dall'Abruzzo adesso avremo altri vaccini circa 20.000 vaccini anche dalla regione Campania e ci sono contatti anche con altre regioni del nord che hanno come posso dire hanno fatto una richiesta in surplus dei vaccini e quindi probabilmente ci aiuteranno a superare questa fase un po' critica Per quanto riguarda invece l'emergenza covid come medici di base come siete strutturati cioè avete un protocollo avete fate rispettare determinate insomma un certo protocollo Ma il protocollo non è mai terminato è iniziato con la fase acuta del lockdown della chiusura ed è continuato perché in modo cerchiamo di fare degli accessi come posso dire programmati per i nostri pazienti in modo da evitare gli assembramenti cerchiamo di dare anche queste norme di protezione individuale di suggerirli ancora ancora anche se i pazienti oramai sono come posso dire già abituati alla mascherina ai dispositivi di protezione individuale quindi alle mani al disinfettante oramai è entrato come posso dire nel costume nostro quotidiano e quindi da questo punto di vista con un accesso programmato con una selezione come posso dire degli accessi negli studi medici riusciamo praticamente a dare un servizio di qualità e soprattutto cercando di discernere quali sono le condizioni che potrebbero essere predisponenti ad un'eventuale infezione da covid che altre invece che sono come posso dire delle forme pare influenzali che in questo periodo sono molto frequenti anche nella gestione delle ricette sì nelle gestioni delle ricette non so se si ricorda noi all'inizio intorno al mese di marzo ospicammo che ci fosse come posso dire una dematerializzazione vera siamo riusciti ad averla ora non abbiamo più queste code nei nostri ambulatori queste nostre file di questi nostri pazienti che poverini dovevano accedere per prendere la ricetta le mandiamo direttamente alla farmacia di riferimento del paziente perché il paziente ci deve dire qual è la farmacia di riferimento per evitare altri tipi di problematiche li mandiamo i pazienti vanno accedono nelle farmacie e possono prendere i farmaci che sono quelli abituali di routine per le patologie croniche di cui sono affette lei come dicevamo fa parte del comitato tecnico scientifico alla regione ecco questo aumento di casi era prevedibile come va gestito e che cosa si può dire alla popolazione anche molisana per tranquillizzarla ma noi abbiamo bisogno di esprimere sempre chiarezza e cautela perché questo lo sapevamo era prevedibile probabilmente forse la colpa è anche un pochettino nostra ci siamo lasciati un po' andare in questo periodo diciamo così estivo come dico sempre io in altre in altre situazioni qualcuno di noi forse è andato in vacanza i virus sono andati in vacanza sempre dietro l'angolo ma io penso che è una fase particolare al di là di quelli che la sintomologia è un pochettino diversa diciamo così che lo screening che viene fatto vengono processati tantissimi tamponi rispetto a qualche mese addietro anche questo è importante processando più tamponi si ha la possibilità di andare a screenare e quindi individuare colori uguali praticamente i soggetti che sono positivi nel 90% dei casi qualcuno dice il 95% dei casi diciamo che la percentuale questi pazienti non sono sintomatici o sono pausintomatici cioè praticamente una sintomatologia abbastanza come posso dire gestibile in maniera domiciliare e quindi riusciamo come posso dire perché si sono affinate abbiamo ci siamo affinati con le tecniche di dispositivi di prevenzione individuale la terapia farmacologica è stata fatta un approccio diverso rispetto al primo periodo e quindi abbiamo un'esperienza ci siamo fatti quell'esperienza sul campo e come dicevo io tempo addietro la nostra ignoranza sta diventando sempre un pochettino come posso dire meno di quanto avevamo tempo addietro perché riusciamo abbiamo una maggiore conoscenza del virus abbiamo una maggiore conoscenza di quali sono i presidi terapeutici che possono essere messi in campo abbiamo una conoscenza di come la prevenzione l'assembramento evitare l'assembramento è una delle fonti è uno degli aspetti principali per la prevenzione di questa pandemia per quanto riguarda invece il vaccino il vaccino contro il covid se ne fa un gran parlare è possibile auspicare una data entro la quale noi possiamo avere potremmo avere questo vaccino io sento parlare tra i media nelle tv nazionali in quelle commerciali eccetera di eminenti scienziati o di virologi che cominciano ad alzardare delle date un vaccino serio deve essere sperimentato se non c'è sperimentazione noi somministriamo un vaccino con delle oggettive difficoltà e queste oggettive difficoltà non ce le possiamo permettere i tempi a mio modesto avviso non sono dei tempi abbastanza brevi io penso che qualche cosa di positivo o su uno studio epidemiologico fatto con la somministrazione di un vaccino che sia matrice italiana che sia matrice europea ha bisogno del tempo materiale io penso che avremo una maggiore chiarezza penso nella primavera inoltrata dell'anno prossimo lì possiamo essere un pochettino più precisi usciranno diversi tipi di vaccini vedremo quali di questi vaccini effettivamente proteggono protegge protegge praticamente l'individuo e da lì possiamo poi come posso dire scrivere forse una parola nuova su questa pandemia ma dobbiamo arrivare a mio giudizio alla metà dell'anno prossimo del 2021 quindi dobbiamo convivere ancora almeno un anno con questo virus le raccomandazioni sono sempre le stesse le raccomandazioni sono sempre le stesse del resto il sistema Italia doveva fare una scelta a mio giudizio in questa fase che sicuramente è una scelta politica ma una scelta anche o dobbiamo convivere con questo vaccino avendo la massima come posso dire accuratezza e attenzione in tutti i nostri luoghi sui luoghi di lavoro all'interno delle nostre famiglie o rischiare una chiusura totale di nuovo significa praticamente mettere in ginocchio il sistema Italia mettere in ginocchio la nostra economia e penso che in questa fase non ce lo possiamo permettere noi ma non ce lo possiamo permettere anche il resto delle nazioni europee e a proposito dell'organizzazione della sanità molisana in questa fase della pandemia abbiamo fatto il punto con il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano che si è soffermato su questo aumento di casi anche nella nostra regione e ha anche fornito alcune risposte a domande e criticità che sono state sollevate in questi giorni sentiamo cosa ci ha detto Dottor Florenzano purtroppo i dati degli ultimi giorni attestano una crescita della curva del contagio dal suo osservatorio a che cosa andiamo incontro Sì effettivamente ormai sono settimane che registriamo un innalzamento anche qui in Molise come del resto in tutta Italia il virus sta circolando sta circolando ci sono stati evidentemente degli elementi dopo il lockdown che c'è stato ovviamente la ripresa della vita civile una ripresa indispensabile però ha portato a un aumento dei contatti tra le persone e quindi conseguenzialmente un innalzamento dei contagi Lo screening i tamponi vanno avanti tutti i giorni e oltre ai casi purtroppo di contagio per fortuna crescono anche i tamponi che l'ASREM sta facendo Sì è motivo di orgoglio per me per dare un riconoscimento a tutti gli uomini e le donne che lavorano in ASREM perché sostanzialmente il Molise è per numero di tamponi processati al secondo posto in Italia subito dopo in Lazio quindi è un lavoro in mane un lavoro complicato è un lavoro fatto anche in sicurezza faccio un piccolo riferimento agli episodi che ci sono stati all'inizio di settimana ebbene quegli episodi sono la dimostrazione che i dispositivi di sicurezza i controlli interni che noi facciamo ci consentono di intervenire e di correggere se c'è un'anomalia nel processo dei tamponi quindi è una cosa positiva dobbiamo confermare che stiamo lavorando in una maniera appropriata Facciamo capire a chi è a casa quali sono i tempi tecnici dal momento in cui c'è la necessità di fare un tampone alla sua esecuzione e al risultato In un primo momento dobbiamo innanzitutto rendere chiara una cosa se io sono stato contatto di un positivo ieri e voglio fare il tampone oggi è una procedura dal punto di vista medico sbagliata perché il mio tampone al 99,9% uscirà negativo perché il virus ha un periodo di incubazione che va dai 4 ai 7 giorni quindi innanzitutto bisogna chiarire questo quindi bisogna evitare la psicosi del tampone perché il tampone purtroppo non è la cura è una modalità di tracciamento e di rintracciamento delle positività delle persone noi fino adesso abbiamo avuto una capacità di fare i tamponi con immediatezza e dare il risultato nelle 24 ore ora abbiamo più che quintuplicato il numero dei tamponi che processiamo e quindi questo tempo può avere in alcuni casi un innalzamento però è un innalzamento fisiologico ma molto più basso rispetto a quello che si registra in altre regioni io sono campano e nella mia regione di appartenenza per casi personali che conosco direttamente c'è stata una lunga attesa sia per fare il tampone e sia per avere l'esito quindi l'invito è a osservarci con calma a criticarci però ad essere tranquilli e sereni perché il lavoro che stiamo facendo è un lavoro coscienzioso e produttivo sul fronte della implementazione di queste operazioni ci sono delle iniziative ci sono delle idee ad esempio dal ministerio è arrivata l'idea del tampone da fare in farmacia oppure qui si è pensato di estendere anche ai privati questa possibilità sì la pandemia è un evento nuovo per tutti quindi le strategie come deve essere in una vera e propria guerra devono anche poter cambiare con una flessibilità che poi è sintomo dell'intelligenza stanno discutendo a livello ministeriale di estendere la possibilità di fare questi tamponi serologici per essere in farmacia io non mi esprimo sul punto perché poi non è un compito mio come non posso esprimermi sulla estensione a laboratori privati dell'effettuazione dei tamponi parliamo invece di un altro versante quello dei vaccini ordinari perché da più parti si è detto correttamente che la vaccinazione quantomeno impedisce una congestione per i tamponi c'è una separazione per cui è una cosa importante però ci sono delle lamentele su questo versante perché sembra che la fase delle vaccinazioni sia in ritardo allora la fase delle vaccinazioni non è in ritardo i cittadini sono invitati a rivolgersi ai medici di medicina generale per prenotare il vaccino anche perché data la pandemia non è possibile né immaginabile che vengano vaccinati insieme presso gli ambulatori tutti quanti abbiamo in un primo momento avuto delle difficoltà di approvvigionamento che sono state superate adesso c'è stata la distribuzione dei vaccini che abbiamo può essere qualche può esserci qualche dischietanza qualche cosa che non è andata bene in qualche in qualche occasione in qualche caso singolo ma noi monitoriamo anche questi e prevederemo per risolverli approfittiamo delle telecamere per fare una raccomandazione a casa su quelle che sono le prescrizioni di base per poter tenere lontano il virus allora è molto importante che tutti quanti noi comprendiamo bene uno che non dobbiamo farci prendere dal panico non dobbiamo andare in crisi da informazione perché c'è anche da dire questo la mole di dati che arriva può generare confusione nelle persone e anche le informazioni discordanti possono dare un senso di precarietà noi dobbiamo evitare questo senso di precarietà che poi tra parentesi non è nella realtà delle cose le indicazioni sono sempre le stesse quelle di essere sempre rispettose delle disposizioni quindi indossare la mascherina mantenere distanza quando si parla con le persone e purtroppo abituarsi come ormai ci siamo abituati a questo clima un altro piccolo intervento se posso fare invito tutti quanti a scaricare comunque l'app Immuni perché comunque è uno strumento che può aiutarci noi non l'abbiamo pubblicizzato ma abbiamo avuto alcuni casi di persone che tramite l'app Immuni hanno riscontrato di essere stati presunti contatti e quindi siamo potuti intervenire è una cosa di civiltà è una cosa importante e invito tutti quanti a scaricare quest'app trasporti scuola movida commercio sono alcune delle tematiche che ovviamente sono al centro anche delle preoccupazioni e decisioni dei sindaci che sono chiamati a intervenire quotidianamente su più aspetti su più tematiche per garantire la sicurezza alla luce dei nuovi casi che ovviamente sono ovunque anche in Molise in tantissimi comuni piccoli e grandi gli avvenimenti e le iniziative di ogni giorno da gestire la socialità con questo si trovano a fare i conti i sindaci tutti i giorni e sono chiamati anche ad applicare quelle che sono le disposizioni le regole a prendere delle decisioni tutti vorrebbero scongiurare un nuovo lockdown generale e pertanto ci si appella i sindaci si appellano al buonsenso e al senso di responsabilità di tutti i cittadini Enzo Luongo ha intervistato su più aspetti il sindaco di Campobasso Roberto Gravina sentiamolo in questa lunga intervista Sindaco partiamo dai dati di questi ultimi giorni nella prima fase della pandemia Campobasso era sempre il centro più colpito della regione stavolta va meglio e quindi almeno in queste ore in città c'è una situazione più tranquilla sì indubbiamente almeno per il momento la situazione è nettamente più tranquilla questo dovrebbe far riflettere anche del perché a volte anche un singolo evento può provocare un'esplosione di contagi nella provincia di Serna lo sappiamo insomma si sono verificati in occasione di due eventi in particolare per Campobasso al momento la situazione è abbastanza sotto controllo e devo dire che anche i pochi casi in realtà sono solo due al momento sulle scuole ci lasciano ben sperare che comunque è ancora tutto circoscritto però la guardia non va mai abbassata proprio per le questioni che ho appena detto cioè basta un singolo comportamento sbagliato che può fare esplodere un cluster e quindi guardia sempre alta anche se lo devo dire lo ripetiamo diciamo così ad abbondanza basta un comportamento diciamo così sensato quindi ognuno di noi se fa la sua parte potremmo vivere questo periodo con la dovuta calma ecco il motivo per il quale anche io indosso la mascherina sebbene siamo distanziati perché è un presidio talmente semplice da utilizzare ma così importante da insomma da promuovere che anche oggi faremo l'intervista in questo modo a proposito di distanziamento ecco trattiamo subito il tema chiave di questi giorni bisogna evitare gli assembramenti non si sta generando un po' di confusione sotto il punto di vista delle decisioni prese a livello locale ogni città ha un orario diverso un provvedimento diverso guardi questo è vero appunto facciamo questo commento prima allora io da un lato capisco e posso anche condividere la scelta di aver lasciato autonomia decisionale il problema è che l'autonomia decisionale può essere data nell'ambito di una cornice quindi ritengo e condivido che se appunto i comuni o le regioni possono avere questa autonomia l'importante è avere un quadro nel quale muoversi perché altrimenti si rischia che una città adotta un orario un'altra città ne adotta un altro una regione adotta dei provvedimenti che sono diversi dalla regione magari confinante quindi va bene l'autonomia va bene perché nel caso di Campobasso o in generale del Molise la situazione è abbastanza tranquilla però è chiaro che forse andrebbero dettate delle regole a livello nazionale che possano permettere in questa autonomia di adottare il provvedimento ma almeno avendo un'uniformità ecco nel caso specifico di Campobasso lei che paletti si è dato cioè quando interverrà se insomma con quali numeri allora va detto che già in precedenza avevo adottato un provvedimento a prescindere dal Covid che definisse degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione perché non esisteva e non esiste un orario oggi la situazione appunto diciamo è tranquilla è chiaro che se dovessimo verificare un ampliamento importante dei numeri soprattutto per cluster quindi per zone io non ho un numero preciso quindi non le so dare un numero preciso però è evidente che la situazione la monitoriamo costantemente e a quel punto adotteremo dei provvedimenti restrittivi un po' sui luoghi di assembramento della movita per esempio uno dei temi che mi sto ponendo è l'occasione della ricorrenza dei morti quindi lunedì novembre non vorrei adottare un provvedimento restrittivo però dobbiamo capire di dover magari non aspettiamo tutti quel giorno cioè chi vuole regarsi al cimitero lo faccia anche due tre quattro giorni prima in modo tale da diluire diciamo così l'affluenza al cimitero fermo restando che di sicuro adotteremo una restrizione per quanto riguarda il contingentamento degli ingressi questo sì in modo tale che avremo un controllo più specifico vedremo appunto se possiamo adottare questo provvedimento o andare nella direzione della chiusura che io vorrei evitare perché stando attualmente ai numeri di contagi sarebbe a mio avviso immotivato lo stesso dei casi per i centri commerciali quindi su questo tema l'appello che lei lancia visto che mancano pochi giorni a questa ricorrenza molto sentita di anticiparsi cominciare già la costituzione dalla settimana prossima prego i cittadini di Campobassani dire che tanto l'importante è il pensiero per chi si rivolge appunto quindi fatelo diluendo gli accessi in modo tale che possiamo evitare di adottare un provvedimento che a mio avviso oggi non sarebbe giustificato per come stando nel contagio alcuni sindaci parliamo di città più grandi di Campobasso hanno già deciso di chiudere alcune strade insomma della movida serale a Campobasso ci potrebbe essere un provvedimento di questo tipo secondo lei? assolutamente sì anzi lo preannuncio non ci sarà esitazione all'aumentare che spero non avvenga di contagi purtroppo lo sappiamo i ragazzi in generale insomma tutti lo siamo stati quindi non dimentichiamo i tempi che furono dove ci sentiamo tutti magari forti tutti invincibili però l'appello è di essere attenti perché la maggior parte dei contagi innanzitutto avviene in famiglia quindi i ragazzi possono essere veicolo di trasmissione all'interno delle famiglie non si vuole essere restrittivi fino a quando però non avremo diciamo così numeri un po' allarmanti al momento per quanto riguarda già le restrizioni adottate con l'ordinanza che le dicevo poc'anzi devo dire che c'è una gestione più attenta anche perché aiuta le forze dell'ordine ad effettuare controlli nel rispetto delle normative che già esistevano e che noi abbiamo in qualche modo ridefinito però sì questo lo dico insomma i provvedimenti che possono essere adottati dai sindaci insomma è consentito e quindi non esiterò a farlo l'altro lovescio della medaglia c'è grande preoccupazione tra gli operatori commerciali perché chiaramente già le restrizioni di questi giorni hanno diminuito il numero degli avventori nei locali nei ristoranti nei bar ma anche nei negozi più in generale questo è un aspetto che preoccupa molto ci sono stati dei lati in questi giorni che dicono che il campo basso dal punto di vista economico è una delle città più colpite e questo è un altro argomento centrale dove come al solito per un amministratore non è semplice insomma io capisco che chi magari guarda dall'esterno c'è quello più riflessivo che magari pensa e riflette c'è quello che invece va nella direzione chiudiamo tutto c'è quello che invece no lasciamo tutto aperto ancora una volta io penso che in questa fase gli alibi rispetto al precedente momento di marzo oggi abbiamo tutti più o meno possiamo reperire mascherine tutti abbiamo gel igienizzanti tutti abbiamo cioè quegli strumenti che ci permettono di non eliminare la socialità però di diciamo così conservarla con prudenza quindi dipende da noi e dipende questo è l'appello che faccio anche ai ristoratori dipende anche da loro a far osservare le regole ai propri clienti dicendo chiaramente che dal comportamento sbagliato del cliente ne va appunto a discapito anche la produttività o il reddito del singolo esercente ed è per questo che al momento a Campobasso la situazione è tranquilla io sono consapevole vi dico anche che su via Ferrari abbiamo rischiato già nel precedente periodo di chiudere tutto perché secondo me già c'erano le condizioni normative per poterlo fare oggi abbiamo un'ulteriore agevolazione non lo voglio fare però ripeto l'invito è ai gestori innanzitutto di essere cioè di trasmettere al proprio cliente in modo insomma educato quanto sia importante per la sopravvivenza del gestore e il comportamento del cliente sindaco però gli assembramenti ci sono sicuramente di sera ci sono anche la mattina tra le 7 e le 8 quando a Campobasso arrivano studenti e pendolari centinaia e centinaia di persone sugli autobus si può fare qualcosa? allora questo lo prendo proprio come esempio cioè in effetti al momento i dati dei contagi ci dicono che il trasporto per quanto abbia delle carenze quindi delle insomma è oggettivo quello che vediamo al momento i contagi non si sono verificati nell'ambito appunto del trasporto questo che cosa vuol dire? e torniamo al discorso di prima cioè quando le distanze si riducono la tensione deve essere maniacale quindi una mascherina possibilmente come quella che indosso anche queste oggi si reperiscono facilmente perché a differenza delle mascherine di comunità o della chirurgica questa protegge di più quindi voglio dire il trasporto sicuramente deve essere eventualmente potenziato vi dico anche che però sarei bugiardo perché tanto se Campobasso ha gli stessi problemi di Termoli o di Sernia o anche di città come Milano significa che servono risorse ingentissime ti scontri con una normativa legata al tipo di mezzo che puoi utilizzare perché non posso utilizzare un mezzo per il gran turismo che appunto viene utilizzato quando si fanno delle gite non è così semplice e quindi è molto complesso però ripeto il tema è con giuste misure si può utilizzare il trasporto quindi con grande cautela fermo restando che se riusciremo a potenziarlo mi aspetto insomma anche e non è una provocazione insieme alla regione veramente abbiamo chiesto discutiamo intorno a un tavolo e capiamo se possiamo aumentare la capacità di trasporto limitando ovviamente i costi perché immagino che i problemi che ha di bilancio il Comune di Campobasso ce l'abbia più già anche la regione quindi è chiaro che dobbiamo cercare di lavorare insieme l'ultima domanda riguarda il posto dove ci troviamo il municipio è ritornato lo avete ripristinato lo smart working ecco questo ci tengo a dirlo noi siamo stati il primo ente in tutta la regione che abbiamo chiesto di ritornare in presenza ad agosto quasi provocando una sorta di scandalo perché? perché ritenevo che insomma non ci fossero più quelle esigenze perché appunto non abbiamo avuto contagiati e quindi era considerate che i comuni soprattutto forniscono risposte ai cittadini ogni giorno quindi noi lo smart working forse prima eravamo anche meno pronti si sono creati problemi per i contatti telefonici quindi prima ancora che arrivasse il provvedimento governativo abbiamo deciso di ritornare con uno smart working al 50% e ripeto venivamo da due mesi di presenza totale presso il comune e adesso chiaramente stiamo valutando di incrementarlo ulteriormente fermo restando che alcuni servizi dovranno rimanere in presenza cercando di regare meno pregiudizio alla cittadinanza perché si tratta di servizi attinenti che ne so alla demografia ai servizi civili quindi allo stato civile e quant'altro però al momento la situazione è sotto controllo anche per quanto riguarda diciamo così i contagi all'interno del palazzo comunale e anche il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio monitora attentamente quella che è la situazione soprattutto alla luce dell'impennata di contagi che si è registrata in città che si registra appunto a Isernia ma anche in tutta la provincia di Isernia negli ultimi giorni nelle ultime settimane e sono interessate anche diverse scuole non soltanto a Isernia un po' in tutta la regione e dunque il sindaco è chiamato a prendere delle decisioni importanti per la sicurezza dei cittadini Barbara Fino ha intervistato D'Apollonio Siamo con il sindaco Giacomo D'Apollonio settimane intense per l'amministrazione comunale che ha dovuto nuovamente fronteggiare l'avanzare della pandemia tra l'altro con un triste primato quello con il maggior numero di contagi Sì veramente fa rabbia questo molta rabbia a noi amministratori a me in particolare e credo anche ai cittadini perché i cittadini lo ricordiamo durante il periodo del lockdown sono stati bravissimi hanno osservato tantissimo le disposizioni le regole hanno fatto dei sacrifici insomma tenendo i figli in casa privandosi di tante cose stando attenti quindi questo sacrificio fu ripagato perché poi noi incontravamo i contagi sulle dita di una mano veramente è stato avevamo quasi un record non solo regionale ma quasi nazionale il problema è quello che è successo dopo purtroppo è ripartito il contagio sono state riaperte le scuole i trasporti hanno cominciato a funzionare i collegamenti con i paesi vicini ci sono c'è un anno di rivieni ci sono state le vacanze nel frattempo è successo quello che purtroppo stiamo vedendo sotto i nostri occhi ecco l'emergenza covid infatti vi vede su più fronti e tra quelli più delicati proprio la scuola come si sta procedendo in tal senso si sta procedendo intanto abbiamo dovuto purtroppo nostro malgrado mio malgrado intervenire con dei propri diventi di chiusura delle attività di tutto il nostro polo scolastico ricordiamo che in quella struttura ci sono circa 800 ragazzi che vanno a scuola oltre poi ci sono i docenti il personale ATA insomma è una struttura molto complessa dove c'è una scuola secondaria di una scuola secondaria cioè una scuola media e poi ci sarà una scuola primaria a piano terra parte della scuola primaria e poi un edificio vicino che c'è la restante parte della scuola primaria abbiamo praticamente sono due settimane di chiusura lunedì prossimo 26 avremo faremo il punto della situazione perché è l'ultimo giorno di chiusura per una possibile riapertura seppure parziale della struttura e poi abbiamo un asilo cioè una scuola dell'infanzia dell'altro istituto comprensivo che è chiuso fino a lunedì perché i piccoletti per un contagio di una collaboratrice scolastica che assisteva proprio i bambini da vicino purtroppo abbiamo dovuto chiuderlo completamente fino a sempre a lunedì mattina poi abbiamo fatto tutta una serie di provvedimenti che riguardano le scuole superiori chiudendo alcune per alcuni giorni per alcune mattinate procedendo a una serie di sanificazioni degli ambienti scolastici proprio per dare sicurezza ogni volta che si riprendeva l'attività un altro tema molto delicato e discusso in questi giorni è la mancanza di una postazione per effettuare i tamponi proprio a disernia ci sono state tante sollecitazioni anche da parte vostra sì assolutamente sì perché io mi domando perché in questo momento non dico tempi normali o quasi normali perché noi abbiamo l'emergenza sanitaria scoppiata già da tempo ed è tuttora vigente però in un momento di emergenza dove c'è una recrudescenza così ampia di casi di contagio in questa città con un ospedale di un certo livello i nostri cittadini devono sottoporsi a questi trasferimenti in auto per andare a fare i tamponi fuori città a Venafro per me va benissimo Venafro però in questo momento a Isernia è necessario che ci sia una squadra che possa pensare agli abitanti di questa città ai nostri concittadini alle scuole di questa città perché sono una componente importante della collettività a livello istituzionale quindi avremo bisogno di un presidio a livello locale su questo io l'ho richiesto in maniera insomma determinata anche il direttore generale che mi ha garantito che stavano facendo il possibile I sindaci infine secondo l'ultimo di PCM è stata data la possibilità di emanare ulteriori misure restrittive per contenere l'avanzare della pandemia quali provvedimenti ha preso il comune di Isernia in tal senso e quali saranno anche le future misure da prendere? Ma noi intanto stiamo intervenendo con i provvedimenti di prevenzione sanitaria che abbiamo già detto nei componenti da scuola ne abbiamo messe alcune diverse oltre una decina in pochissimo tempo ci riserviamo abbiamo fatto anche dei provvedimenti che riguardano la cosiddetta movida già da tempo ne abbiamo fatto uno più ampio che riguarda proprio il divieto di bivacco nella nostra città che ha risvolti anche di rispetto del patrimonio pubblico di antinquinamento e poi di sicurezza pensiamo solo alle bottiglie di vetro che vengano abbandonate possono essere un motivo di pericolo per la cittadinanza però ha i riflessi anche di contenimento proprio per evitare assembramenti quindi anche su quell'aspetto ne abbiamo fatto un'altra che riguarda in particolare il centro storico proprio riducendo di un'ora l'orario di apertura abbiamo cercato anche di vietare gli alcolici dopo una certa ora per evitare che si soffermino oltre il tempo stabilito e una serie di altri provvedimenti che riguardano proprio la convivenza del centro storico che è molto complicata perché abbiamo i residenti che hanno delle aspettative ci fanno delle continue richieste di tranquillità prevede altre misure restriccine? su questo adesso io ho chiesto sia alla Polizia Municipale ma devo dire anche alle forze dell'ordine c'è stato ieri un tavolo tecnico proprio con la questura e con le forze dell'ordine per capire quello che avviene in città anche su sollecitazione del prefetto che vuole dare attuazione ai provvedimenti nazionali quindi con maggiori controlli che ho chiesto anch'io in questo momento è necessario che si facciano i controlli proprio per evitare la diffusione del virus e abbiamo necessità io ho necessità di avere un monitoraggio diciamo ancora diciamo dentro questo fine settimana per poter capire anche se le notizie della settimana scorsa non mi segnalano situazioni di rischi di assembramenti un po' il tempo che è cambiato la situazione di emergenza sta cominciando a consigliare molti a rimanere in casa l'appello è cercare di essere molto responsabili evitare questi assembramenti usare sempre la mascherina come stiamo facendo noi in questo momento e con la distanza raccomandata questi sicuramente come ho detto prima è un motivo di abbattimento dei rischi quindi andremo molto più tranquilli se facciamo tutto questo quindi un po' di pazienza purtroppo è un momento molto delicato e dobbiamo tutti fare dei sacrifici io credo che ci sono tante famiglie adesso che hanno in casa una persona contagiata e con i rischi perché poi tutti hanno i familiari hanno magari i nonni le persone anziane le persone fragili e i rischi sono elevatissimi quindi la raccomandazione è essere molto presenti e rispettare le regole se facciamo questo probabilmente potremo superare questo momento ma lo faremo tutti insieme è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme non ci sono provvedimenti che tengano bisogna soltanto rispettare le regole non solo quelle che ci dà il governo ma anche quelle di buon senso Francesco Roberti sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso anche lui tiene la situazione costantemente monitorata ed è pronto in caso di necessità a prendere le decisioni per garantire la sicurezza Emanuela Iorio lo ha intervistato sentiamo cosa ha detto il sindaco in merito a quello che è stato fatto a Termoli e a quello che si dovrà fare ancora per fronteggiare l'emergenza coronavirus Siamo con il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti a Termoli ci sono intanto diversi casi positivi come sta andando la gestione a livello comunale a livello comunale continuiamo a monitorare la situazione così come abbiamo fatto dall'inizio di questa emergenza quindi non abbiamo mai abbassato la guardia è tuttora costituito il COC puntualmente facciamo delle riunioni per verificare quale criticità possono esserci e come affrontarle purtroppo c'è molta confusione così come c'è stata dall'inizio sul discorso dei vari DPCM che si sono susseguiti anche qui pur lasciando ai comuni la possibilità di prendere eventuali decisioni io dico che bisogna comunque coordinarsi io l'ho vissuto di prima persona a giugno quando ero l'unico comune che i primi di giugno non avevo posto restrizione sulla chiusura dei locali mentre gli altri comuni avevano chiuso alle 21 mi sono ritrovato con un sacco di ragazzi che il fine settimana venivano qui a Termoli quindi anche con gli altri sindaci stiamo dialogando sull'idea che se c'è una eventuale restrizione deve essere omogenea e coordinata tra i vari comuni per evitare queste movide sicuramente ci sono un fine mese particolare tenete conto che il 31 qualcuno se pensa di festeggiare la festa di Halloween se la può dimenticare perché se non vengono fatte eventuali restrizioni le farò io personalmente proprio per evitare tutto questo c'è il problema che ci approssimiamo alla festa dei morti e quindi il cimitero dobbiamo verificare tutta una serie di condizioni metterò in campo le associazioni di volontariato per garantire il distanziamento versante trasporti ci sono diverse criticità soprattutto per gli studenti che vanno a scuola a scuola sono distanziati ognuno al suo banco poi però per andare appunto a scuola gli autobus sono pieni cosa si può fare e cosa si sta facendo? diciamo che questo è uno dei problemi irrisolti a livello nazionale che si sapeva prima e che ce l'abbiamo anche oggi come problema secondo quello che è l'indirizzo da parte del ministero dei trasporti i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al massimo dell'80% di ciò che viene consentito in termini di autorizzazioni e quando si parla all'80% dei posti occupabili si intendono anche i posti all'impiede all'interno del trasporto pubblico urbano risulta di tutto evidente che se volessimo aggiungere delle corse e garantire tutto questo il comune non ha la capacità economica per coprire questa situazione ma altresì se volessimo aumentare solo le corse quindi al di là della possibilità o meno di recuperare queste somme bisognerebbe coordinarci con i presidi perché gli orari di arrivo sarebbero differenti e quindi anche lì il governo ha dato l'indirizzo di poter aprire le scuole alle 9 o di fare il rientro pomeridiano è evidente che non è questo il modo per superare il problema dei trasporti perché in qualche maniera andiamo solo a traslare il problema organizzare la scuola con orari differenti significa concertare il tutto con i professori con gli assistenti scolastici con le famiglie Sindaco la seconda ondata è arrivata ci sono diverse criticità al Santimoteo anche a partire dalla nomina che ancora non è stata fatta di un direttore sanitario com'è la situazione dell'ospedale di Termoli è pronto a recepire questa nuova ondata? Beh l'ospedale di Termoli già era in crisi prima del covid oggi è ancora più in crisi di prima perché al di là delle problematiche del covid stiamo trascurando tante altre patologie che sono altrettanto importanti quanto il covid la difficoltà di reperire il personale è un problema a livello nazionale purtroppo finché non si sblocca l'idea di dare una garanzia a chi deve venire a lavorare qui e vale a dire che gli si dà la prospettiva di un futuro e quindi un'assunzione a tempo indeterminato poche persone in questo periodo e soprattutto in questo periodo di covid sono disposte a venire a fare un sacrificio presso nosocomi che hanno un'importanza minore rispetto ad altri che altrettanto chiedono risorse in termini di personale e quindi danno maggiore disponibilità ad assunzione il Santimodio noi con il dottor Florenzano e all'interno della stessa unità di crisi dove via Giustini e quindi via la Scafarto stiamo sollevando questa problematica la stigmatizziamo puntualmente la evidenziamo come abbiamo evidenziato l'idea e la necessità di non dover per forza processare tutti i tamponi a campo basso ma di dare un più ampio respiro anche ad altri ospedali tipo Iernia Termoli Venafro di processare i stessi tamponi nella località dove si fanno Questa è dunque una breve parziale panoramica della situazione che lo ripetiamo è in divenire per quanto riguarda le decisioni che dovranno essere prese che già nelle prossime ore potrebbe cambiare il senso di responsabilità di noi tutti è fondamentale per evitare che si precipiti di nuovo in un lockdown generale che dunque sarebbe un colpo duro durissimo come ha detto anche il Premier Conte per il nostro paese termina qui questa puntata di ingresso libero dedicata all'emergenza Covid a questa seconda ondata di contagi la prossima puntata venerdì con nuovi argomenti gli argomenti del giorno grazie della settimana grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti